Maddalena, Vars, Isoard, Munginevro, Sestriere. Per gli amanti del ciclismo questi cinque colli suonano come una filastrocca che profuma di mito. Il mito è quello di Fausto Coppi, autore di quella che forse viene considerata l'impresa per eccellenza nel mondo delle due ruote. Il giro del 1949, la tappa Cunio Pinerolo, Coppi in ritardo, deve recuperare scatta, scatta in salita, come era suo costume e abitudine e fugge solo per 192 chilometri di fatica, di fango, perché non parliamo di strade asfaltate, di forature, almeno cinque ne fece il campionissimo. Arriva al traguardo da solo senza particolari festeggiamenti come era nel suo stile. Ecco, più ancora del numero delle vittorie sono giornate come queste che hanno contribuito a creare il mito e la fama di Coppi, a fare in modo che Coppi diventasse il campionissimo e a far dire agli esperti che esisteva un ciclismo prima di Fausto e un ciclismo dopo Fausto. E mi scuserete se uso questo termine così colloquiale, amichevole, Fausto, ma fa parte in qualche modo anche della storia della mia famiglia, poiché i miei nonni vivevano con lui nella casa di Noviligure, erano i custodi della ville, quindi sono cresciuto con il racconto delle imprese di Fausto che poi soltanto dopo ho scoperto essere Coppi, un personaggio straordinario da un fisico eccezionale, capace di innovare anche la società italiana e poi sconfitto da una malattia che poteva essere curata con un farmaco tutto sommato di uso comune. Anche per questa dimensione tragica c'è una passione che è ancora molto viva a cent'anni dalla nascita, con quella passione che si riserva agli amori davvero più intensi.